Amici Trevi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che inizierà a vedere un cambiamento del tempo sull'Italia, aria più fredda probabilmente dal nord Europa, piano piano si avvicina al nostro paese. Per questa giornata di martedì però ancora situazione relativamente tranquilla, lo vediamo dalla distribuzione delle nuvole sull'Italia ce ne saranno ben poche, qualche nuvola però comincia a interessare l'arco alpino si addossa sulle cime di confine e poi in giornata si riverserà questa nuvolistà sul versante adriatico come precipitazioni in effetti arriva qualche fiocco di neve sulle cime confinali dell'arco alpino e poi in giornata delle piogge arriveranno a interessare le regioni adriatiche con anche qualche fiocco di neve ma per il momento a quote relativamente alte. In effetti le temperature, lo vediamo da quest'altra grafica resteranno ancora abbastanza alte domani, quantomeno al di sopra delle medie del periodo però a fine giornata arriverà aria più fredda. Come vi dicevo porterà qualche fiocco di neve sull'arco alpino cime di confine e poi delle piogge sulle regioni adriatiche con quota neve che sull'appennino a fine giornata comincerà a scendere in maniera decisa. Sempre per la giornata di martedì vi segnalo anche un'intensificazione del vento Con questo è tutto, per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo